Ciao e benvenuto a questa 25esima puntata del podcast LinkedIn for Business. In questa puntata desidero condividere con te alcuni concetti chiave legati a strategie di LinkedIn Networking. Prima di questo faccio una piccola promessa, ti spiego perché è importante sviluppare il tuo network sui social business network e in particolare su LinkedIn. Beh, allora sicuramente come saprai la costruzione del tuo network sui social business network è fondamentale perché il networking è diventato il nostro vero capitale sociale, cioè quello che ci contraddistingue non è solo cosa sappiamo fare, la nostra esperienza, le nostre competenze, ovviamente le nostre capacità professionali, ma anche il network che ci siamo saputi costruire attorno a noi. Grazie al network noi possiamo essere in qualche modo paracadutati, supportati, autati nelle varie vicende umane e professionali che ci possono capitare nella vita. Ma è importante avere una condizione, una contezza di come è strutturato il nostro network, qual è la sua struttura, qual è il volume e la qualità delle relazioni in cui siamo immersi anche grazie ai social network. Un fattore fondamentale per la costruzione di relazioni professionali è il fattore fiduciario. Quindi noi nel momento in cui accettiamo una richiesta di collegamento su LinkedIn diamo a questa persona la possibilità, se non abbiamo cambiato l'impostazione di base, di accedere al nostro network, di avere delle informazioni in real time su cosa facciamo, su cosa scriviamo, su come stiamo sviluppando il nostro network e così via. Quindi una delle ragioni per cui i decision makers si utilizzano i social network in chiave business è proprio perché grazie a LinkedIn e altre social business network possono imparare da collegamenti degni di fiducia, da trusted peers. Questa è la prima ragione per essere su un social network come LinkedIn, è proprio quella di imparare da colleghi, da persone che ricoprono magari il nostro stesso ruolo all'interno di altre realtà aziendali e di cui noi ci fidiamo, a cui diamo la nostra fiducia incondizionata. Il networking è una delle attività prevalenti che facciamo su LinkedIn, è una di quelle più vantaggiose, di quelle più importanti. Il networking è anche ovviamente incoraggiato da LinkedIn che ci mette a disposizione la sua funzionalità, persone che potresti conoscere, people you may know. Se vai sulla pagina del tuo network su LinkedIn potrai scoprire quali sono le raccomandazioni, i consigli di LinkedIn per espandere il tuo network, ovvero persone che secondo LinkedIn sono le più indicate, le più papabili per affinità, per tipo di lavoro, per tipo di competenze, per esperienze condivise e così via, sono le persone più indicate per inviarle una richiesta di collegamento che dovresti aggiungere al tuo network. Quindi il networking è proprio la linfa vitale della sviluppo delle tue potenzialità, capacità di raggiungere i tuoi obiettivi su LinkedIn. Se hai costruito un network scarso, non centrato sui tuoi interlocutori chiave, sul tuo target, non basato su connessioni di valore con cui poter condividere aggiornamenti professionali, esperienze, trend di settore o insight di settori, sarà per te più difficile raggiungere i tuoi risultati su LinkedIn. Considera anche che se il tuo obiettivo è quello di ingaggiare e trovare prospect su LinkedIn e trasformarli in lead qualificati, sappi che il processo decisionale all'interno delle aziende, quelle più evolute, quelle più strutturate, quelle più innovative, è basato non solo su una persona che decide, ma su una cosiddetta circolo di influenza. Quindi nel business to business le decisioni coinvolgono più persone. Secondo una studio di LinkedIn, 5,4 persone sono coinvolte in media in un processo business to business. Grazie a un'attività opulata di networking potrai scoprire chi sono questi influenzatori interni del tuo buyer aziendale target, come avvicinarli, come ingaggiarli, come costruire anche con loro una relazione basata su uno scambio di fiducia e di valore. Il networking si alimenta anche ovviamente grazie allo sviluppo del proprio personal branding, ovvero grazie alla condivisione di contenuti utili, professionalmente interessanti, validi, aggiornati, completi per i tuoi interlocutori chiave su LinkedIn. Quindi LinkedIn è sicuramente il miglior social network per sviluppare il tuo network di relazioni professionali. Considera che possono esserci su LinkedIn differenti strategie di networking, una più aperta, orientata ad accrescere velocemente il tuo network, un'altra più selettiva, dove aggiungerai e accetterai richieste di collegamento solo da persone che rispettano alcuni requisiti che tu hai stabiliti a priori quando hai definito la tua connecting policy. Secondo LinkedIn la connecting policy prevede il fatto che tu debba accettare inviti solo da persone che conosci e che stimi e di cui ti fidi. In realtà questa policy è molto restrittiva e non ti consente di cogliere le potenzialità di LinkedIn in ottica di networking. Un concetto chiave quindi è che non solo i cosiddetti legami forti, cioè persone con cui è stabilito una forte identità attraverso magari una relazione che dura nel tempo reciproca, forte, familiare, amicale anche in un contesto professionale. Dicevo, non solo i legami forti sono importanti, ma LinkedIn ti permette di fare leva sui cosiddetti legami deboli, cioè persone con cui ti sei collegato ma che senti ogni tanto, che non frequenti costantemente, con cui non hai sviluppato un forte legame identitario, un forte legame orizzontale, come dire, strutturato, ma che hai incontrato incontri solo occasionalmente o sporadicamente. Ebbene, questi famosi legami deboli sono quelli che più probabilmente ti permetteranno di trovare un nuovo lavoro, di aprirti a una nuova opportunità di lavoro. Infatti, secondo proprio questa teoria, che si chiama la forza dei legami deboli, sviluppata da un sociologo svizzero, trepandato in America, Mark Granovetter, che nel 1973 pubblica proprio una ricerca in cui analizza le modalità con le quali le persone cercano e trovano lavoro. e Mark scopre che di tutti coloro che avevano trovato lavoro grazie a una segnalazione, a un passaparola all'interno del proprio network, l'83% aveva trovato lavoro grazie a un legame debole, cioè a una relazione abbiamo detto occasionale e non a un legame forte. Non era stato un amico, un collega che vede tutti i giorni un legame forte a aprirti questa nuova porta, magari all'interno di un'altra azienda, ma era stato un legame debole. Quindi non coltivare, non pensare solo di aggiungere al tuo network persone con cui hai una forte familiarità o identità o affinità, ma pensa anche al potere, alla forza che ti può provenire in termini di opportunità di carriera da parte di un legame debole. Quindi il tema è quanto dovrei essere, come dire, selettivo, quanto dovrei essere aperto nella costruzione del mio network e quanto conta questa variabile dimensionale all'interno del tuo network, cioè se un network esteso molto sviluppato o un network probabilmente molto selettivo e anche ristretto. Beh, dipende da molti aspetti questi elementi, ne ho già parlato in una precedente puntata di questo podcast. Considera che un amministratore delegato ha mediamente 930 collegamenti, probabilmente selezionati, il 28% degli utenti LinkedIn ha fino a 300 collegamenti, solo il 12% ha più di 3000 collegamenti. Considerando quindi queste due strategie, quella della open networking o quella della strategia selettiva, considera che non esiste un numero perfetto di collegamenti su LinkedIn, ma anche che secondo alcuni studi, soprattutto sviluppati dall'antropologo inglese Robin Dunbar dell'Università di Oxford, noi possiamo stabilmente sviluppare delle relazioni continuative con non più di 150 persone circa. Questo è il cosiddetto numero di Robin Dunbar, ovvero il limite cognitivo alla nostra capacità di mantenere nel tempo, relazioni stabili con le persone è un limite proprio fisico, oggettivo di disponibilità dei tempi nei confronti degli altri. Questo numero vale anche per le relazioni online, quindi non possiamo pensare di relazionarci con frequenza, abitudinariamente, abitualmente con più di 150 collegamenti o nodi del nostro network su LinkedIn. Quindi se è vero che il suggerimento è quello di trovare il giusto equilibrio tra qualità e quantità, quindi tra tipologia di collegamenti tra legami deboli e legami forti, è anche vero che i network che generano una maggiore efficacia in termini di opportunità di carriera, ma anche di generazione di business, sono i cosiddetti network smart, ovvero i network eterogenei, cioè i network formati da collegamenti che ci permettono di accedere a sottocluster di network fortemente coesi tra loro, ma in qualche modo impermeabili all'esterno. Quindi se noi riusciamo a avere all'interno del nostro network persone che ci permettono di accedere ai loro network coese, loro comunità di pratica, di settore, professionali, riusciremo a avere un ruolo da networker molto importante, perché faremo da bridge, faremo da ponte tra un sotto network e l'altro che altrimenti non riuscirebbero mai a parlarsi, a condividere esperienze, idee, opinioni, strategie e best practice. Quindi costruire un network eterogeneo, come ci insegna Ron Barth, uno studioso di come le reti social influenzano le nostre carriere e il business, è proprio il segreto per avere un network di successi. Quindi le persone che hanno un cosiddetto open network e hanno quindi saputo costruire nel tempo un network eterogeneo, hanno maggiori proprietà di successo di quelli che abitano in un network chiuso, impermeabile all'esterno, fortemente coeso, ma poco diversificato. Quindi quando parliamo di network cluster, parliamo di gruppi di connessione fortemente connessi tra loro che coltiviano qualcosa in comune, possono appartenere magari alla stessa città, essere gli esperti del settore, per esempio gli specialisti IT di uno specifico settore, oppure può esserci un network coeso basato su persone che hanno frequentato la stessa scuola, università, master o coloro che condividono i stessi valori, principi, interessi, oppure basati su altri fattori psicologici o psicografici. Quindi il valore dell'adversità, dell'inclusione, dell'appartenenza sotto gruppi coesi di network ti permetterà di acquisire un ruolo strategico e ti permetterà di favorire la contaminazione, trasterimento di un concetto o di contenuti o di relazione da un cluster all'altro e questo ti permetterà più facilmente di acquisire un vantaggio competitivo per affermare la tua identità, il tuo personal branding. Quindi sviluppa il tuo network tenendo conto non solo della quantità e della qualità, ma anche e soprattutto della diversità. Grazie e a presto.